Un anno fa aveva rubato un fucile da caccia dal capanno di un vicino. Adesso, dopo approfondite indagini, i carabinieri di Cavriglia hanno rintracciato il responsabile e lo hanno denunciato. Nei guai è così finito un 19enne del posto. I militari hanno ricevuto la denuncia querela solamente qualche giorno fa da parte di un residente della zona per la scomparsa di un fucile da caccia carabina calibro 12 che aveva ereditato dal padre. Il furto però risaliva ad un anno fa. Grazie ad alcuni testimoni, all'individuazione del periodo in cui era stato messo a segno il furto e alla ricostruzione degli ultimi mesi dei fatti, i sospetti si sono subito concentrati su un giovane che conosceva il defunto proprietario del fucile. Dopo aver ottenuto dall'autorità giudiziaria un decreto di perquisizione, i carabinieri si sono recati nell'abitazione del giovane ed hanno trovato l'arma rubata, una cartucceria e svariate decine di cartucce calibro 12. È stato anche accertato che nel corso dell'ultimo anno il ragazzo aveva portato l'arma anche fuori dalla propria abitazione. Il 19enne è stato così denunciato in stato di libertà per furto aggravato, porto abusivo in luogo pubblico e detenzione abusiva di armi.